E' bella a tutti ragazzi qua Pane, bentornati in questo nuovo video qui sul canale del JTF Clan e siamo tornati con questo nuovo fantastico video su Call of Duty Black Ops 4 e niente ragazzi, sono tornato dopo tanto tempo, torno come me ne ero andato ovvero scusandomi per qualcosa perché se siete fan accaniti lo dovete sapere che io quando faccio un commentary in un video per una cosa o per l'altra mi devo scusare altrimenti non sono in pace con me stesso, oggi mi scuso per il raffreddore ragazzi, mamma mia che raffreddore che mal di testa, infatti dai ci arriviamo in fondo a sto commentary no sto scherzando ovviamente, comunque ragazzi introduciamo brevemente quello che è il gameplay poi avevo voglia di fare un pochino due chiacchiere con voi dato che era un po' che non ci si sentiva e il gameplay è stato effettuato dal nostro buon JTF Red si trattano di 42 Gunstreak in un'uccisione confermata sulla mappa Azienda se non sbaglio sì, Azienda decisamente ho il gameplay qua sotto se ve lo state chiedendo e niente, è realizzato col Titan che nonostante io non abbia ancora provato perché sto giocando veramente poco dopo ci arriviamo sembra avere le palle veramente dure, essere veramente oppivi vedo tantissimi gameplay con quest'arma e anche da quello che sto vedendo con i miei occhi in questo momento c'è da dire che scioglie abbastanza gli ani degli avversari e comunque ragazzi era veramente tanto che non ci si sentiva era tanto che non caricavamo COD da quando dobbiamo ricominciare io mi sono comunque fatto aspettare perché ovviamente non è che potevo tornare nel momento esatto in cui Gabri ha deciso di ritornare su COD e dunque mi sono fatto un pochino desiderare come al solito no vabbè dai sto scherzando questa è la prima volta che riesco a farvi un commento sono molto contento di essere riuscito finalmente a ripropormi a voi dopo così tanto tempo perché è passato veramente tanto anche stavolta e niente ragazzi purtroppo vi devo dire che non sto giocando e non lo so mi brucia un pochino il culo sinceramente mi brucia il culo perché quando vedo queste cose ragazzi questo gioco mi sta piacendo veramente tanto da guardare avevo provato la beta purtroppo non mi era piaciuta forse è stato anche dovuto a quello il fatto che io abbia smesso completamente di giocare alla Playstation e non lo so non lo so ragazzi prima o poi dovrò per forza ritornare perché questo Call of Duty lo voglio provare e dunque vi chiedo anche a voi di dirmi un pochino che cosa ne pensate nei commenti ovviamente perché altrimenti che senso avrebbe dirvi una cosa del genere comunque a livello visivo mi piace veramente tanto anche nella community ha avuto un impatto diciamo strano perché non ha spaccato il culo come io mi aspettavo però sto facendo bene meglio di World War 2 all'inizio anche se World War 2 ad essere sincero ha fatto più boom in generale a livello di numeri sto parlando non a livello di apprezzamento del gameplay ecco dato che è stato molto apprezzato da tutti quelli che l'hanno giocato il gameplay di questo Call of Duty però a livello mediatico puramente mediatico devo dire che World War 2 all'inizio era stato un pochino più devastante rispetto a questo Black Ops 4 che in realtà sta piacendo credo a tutti voi molto molto più che World War 2 io ho provato la beta come vi ho detto e purtroppo non mi era piaciuta per diversi fattori gli spawn li trovavo veramente troppo troppo randomici per fortuna vedo che li hanno fixati nel game completo vabbè ci mancherebbe altro perché su Call of Duty non funzionino gli spawn non che siano mai stati eccelsi qualche problemino ce l'hanno sempre avuto però ragazzi non so se vi ricordate nella beta in qualsiasi modalità che non fosse deathmatch a squadre e sporadicamente anche su deathmatch a squadre si vedevano cose che non stavano né in cielo né in terra poi è stato anche un fatto di molti fattori abitudinari diciamo comunque abitudini a cui io c'è cose a cui io non ero abituato come ad esempio la ricarica automatica della vita che alla fine cambia decisamente poco anzi soltanto una cosa in più a cui stare attenti durante il gioco ecco dunque devi essere ancora più concentrato per giocare a Call of Duty su questo nuovo Black Ops 4 e non è sicuramente un punto a sfavore anzi è molto molto impegnativo di conseguenza anche molto divertente o ad esempio il fatto che ci voglia comunque un po' più di tempo a buttare giù i nemici comunque ragazzi siamo arrivati alla fine del commentary io spero che non vi sia dispiaciuto ecco veramente non ho avuto troppo tempo e dunque l'ho utilizzato giusto per fare due chiacchiere non volevo annoiarvi parlandovi dei cazzi miei o robe del genere e dato che appunto avevo voglia di fare due chiacchiere così come se fossimo tra amici che ci troviamo online in parti a parlare dopo tanto tempo ecco questo era un pochino il format del commentary che avevo in mente di farvi io comunque ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace perché il gameplay è assurdo in solo tra l'altro è stato giocato non mi ricordo se l'ho detto prima comunque ve lo sottolineo perché è importante il fatto che sia effettivamente stato giocato in solo su uccisione confermata non è facilissimo giocare in solo dunque ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace lasciare un bel commento così se avete voglia di chiacchierare ditemi se siete contenti del fatto che io sia tornato spero di essere un pochino più presente in futuro e niente ragazzi lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e qui da Pana è tutto bella non ti piace i gtf figa ammazzati figa sparati quando arrivo devi farmi passare grazie a tutti